Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, lui è unicornolo e anche oggi giocheremo a Clash Royale Mi raccomando ragazzi, guardate tutto il video fino alla fine, sono contento che vi stiano piacendo i miei contenuti e soprattutto lasciate un like e commentate a qualsiasi cosa che vi va Oggi ragazzi useremo delle nuove strategie, la strategia dell'attendere Faremo fare il primo passo ai nostri avversari, cercando di vedere e capire se riusciremo a vincere almeno due partite di fila Andiamo a sfida, contro chi giocheremo? Scopriamolo insieme Rasmus! Spatabè! Pronti ragazzi, ci siamo Attenderemo che a fare la prima bossa siano i nostri avversari Devo vincere almeno due partite di fila, vai Eccolo qui Prima mossa fatta Andiamo con i barbari Vai! Dopodiché con il nostro super Bombarolo 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 Vai! Vai così, vai così Non male per il momento ragazzi, non male, non male, non male, non male, non male, unicordolo Dai, dai, dai Raga, non vi nego che sto cercando di migliorare anche per voi, per cercare di essere più all'altezza dei vostri anche modo di giocare Ma vediamo, vediamo come continua questa nostra super sfida Barbari, 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 super barbari, vai, fate il vostro dovere, barbari Dai, 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 dai Vai, barbari, vai Dai che stiamo... Sì, sì No Per un pelo ragazzi, non abbiamo conquistato la prima torretta Ma lo conquisteremo Dai, 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 dai Unicornolo Sì, sì così, dai Dai, dai Sì Vai Elisir al massimo per due No Sì, sì, vai, vai, che adesso ci penso io a te Vai No 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 Vai Vai, vai Boom Sì Dai, 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 dai ragazzi Dai, dai che ci siamo Dai Forza, dai, dai Dai Sì Sì Winner Sì ragazzi Win Seconda battaglia Contro chi giocheremo? Vediamo, vediamo, vediamo Ricerca avversario Spadabam Luiz 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 Dobbiamo sconfiggere anche Luiz Allora, Luiz è partito già alla grande per primo Noi proviamo a lanciare una palla infuocata Boom Ok Per farvi capire chi comanda Dopodiché Andiamo di casettina La casettina Dai, 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 dai Bestione che non sei altro Dai Dai E li sti pugni come si deve Dai, 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 dai Dai Vai Bene così Bene così Dai Ok Lui è andato di gigantone Unicornolo Pensaci tu Unicornolo Dai unicornolo Dai Barbari 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 Dai, barbari Dai Vai così Vai così Bravi Dai Gigantone Vai gigante Fai il tuo dovere Cerchiamo di prendergli una torrettona Dai Dai, 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 dai Torrettona Dai Spadabin Dai, dai Continuiamo aggressivi Dai che ha le corde Dai Continuiamo aggressivi Dai Dai così aggressivi Dai 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 che sta tenendo il tempo Dai Teniamo duro Teniamo duro Teniamo duro Sì Ops Troppo Specco il telefono Sì Unicornolo Porta fortuna Sì Bene ragazzi Spero vi siate divertiti insieme a me Tanta tanta roba Questa strategia Devo dire che Funziona Ci vediamo al prossimo video Ci vediamo al prossimo video Sì Sì